Benvenuti e bentornati con Colin McRae, io sono Jack McRae e Max e stiamo facendo un rally di Francia dopo un inizio difficile, poi uno stage veramente terribile stiamo con una macchina un po' sgangherata, ci proviamo e abbiamo lo stage 4 e lo stage 5, facetemi stage 3 e stage 4 dunque andiamo avanti e vediamo cosa ci regala questo rally di Francia, questo rally di Corsica praticamente non è stata facile finora, ma noi ci proviamo siamo al terzo posto come sempre non garantisco una buona guida ci proviamo ok andiamo avanti che bello come destra? ahhh che cos'è sta roba? c'è un albero che non volevo prendere volevo tagliare ma non ha senso tagliare qua brutta 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 l'ho odiata questa pure l'ho odiata tantissimo si proprio sta attento ok 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 perfetto la possiamo fare? bella 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 tre dosso e tre sinistra lo sapevo che mi andavo a schientare, lo sapevo guarda quanta ghiaia che c'è guarda quanta ghiaia che c'è andiamo avanti non pensavo di essere il vantaggio con questi errori non pensavo di essere il vantaggio con questi errori sei a sinistra e sei a destra sei a sinistra e sei a destra sei a sinistra e sei a destra voglio rallentare un poco bella questa sinistra è andata un po' meglio non me l'ha detto che a chiudere a chiude intendeva quello ok tre dosso e quattro sinistra ok come va? va bene siamo veramente spinto tanto settanta e dosso tre sinistra nooo cos'è sto tornante? perchè? perchè hai fatto un problema del genere? oh boia ok lasciamo fare dai ma perchè questo gioco mi mette tutta sta tensione? dovrei rilassarmi e lo adoro eh e lo adoro i giocchi rally sono un po' così spingere spingere più che puoi tornate destra c'ha capito che devo fare così che curvace comunque ho un po' di danni dalle riparazioni non fatte mannaggia passiamola ok più difficile questo chiude ovviamente abbiamo preso la pianticina mi sembra giusto la cannon penna c'è una pianta in mezzo ancora altri due dopo questa altri due tornanti e le vanno via due in fase faccio point chiamare come vuoi oh pericoloso ma non finisce più questo 13 13 mamma mia che recuperone ci voleva proprio ci voleva proprio dai questo è difficile 33 sinistra ok perfetto ok ancora un pezzo oh siamo alla fase finale no la fase finale inizia adesso semplicità dai dai dobbiamo spingere dobbiamo recuperare 30 34 delta in 4 attenzione ancora più incredibile dai spingi 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 si si ma voglio rischiare troppo ma non era pericoloso ok finale 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 spingi 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 bellissima bellissima si è schiantato dopo va bene va lo stesso comunque è andata è andata siamo danneggiati ancora un po' ma abbiamo recuperato e questo qui ci voleva è un gran recuperone anche se non sto puntando la vittoria eh si Douglas rimane secondo ma ha fatto qualche piccolo errore ci siamo divertiti ci siamo divertiti moltissimo vediamo dunque lo stage 4 dunque lo stage 4 non lo partiremo e dunque potrebbe essere quello che conclude il rally di Corsico non ne ho idea lo sapremo dopo la partita ok questo è tutto da solito non lo so non lo so non lo so ho imparato a capire il copiloto ok ho imparato a capire il copiloto 23 sinistra 23 sinistra 23 ok ma è stato proprio bello questa cosa ottimo inizio ottimo inizio per noi dai ci stiamo lo scoppiato del motore che bel suono non tagliare eh lo so il futuro non sono uno che ama tagliarli pure menti che brutto errore che brutto errore che brutto errore muove la macchina non è già così all'inizio eh lo so vi ha perso troppo lo so lo so è un errore troppo grave ragazzi davvero troppo grave ok vediamo ok più o meno ce la siamo cavata ma non troppo bene ma già sicuro perfetto dai ce la possiamo fare mhm 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 stacorsica il salto di qualità della difficoltà te veramente difficilissimo però.. si imparano tante cose ok e poi chiude Perfetto, chiude, chiude, chiude Infatti ci siamo chiusi anche noi Meno male che c'era il guardrail Che ti volevamo di sotto Questa abbiamo fatta male, molto male Molto, molto male Questa sezione Eh vabbè Andiamo pure A prenderci le ortiche A raccogliere le ortiche, cavolo Non sono soddisfatto Ormai è una macchina che non tengo più Incredibile che siamo Ah infatti Stiamo pure in maniera L'abbio perso, si può Cos'è sta roba? Cos'era sto tornante? Vabbè Ancora, ancora Un altro tornante I tornanti sono pericolosi Oh, questo l'abbia fatto bene invece Soddisfatto Prima di un tornante fatto bene Non tagliamo Ok 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 Error, error È la macchina che sballa Non ci faccio niente Cosa facete? Cerco di resistere ancora Queste ultimi due sezioni Una macchina che non ce la fa più Poveraccia L'abbiamo tanneggiata tanto Ok Vai lì Non andiamo veloci 54 sinistra Siamo farcela Dai, dai Due destra Vuol dire Andiamo un po' Pericoloso 35 sinistra Ok, ancora una Ancora una Bene, bene Abbiamo perso ancora un po' Ma possiamo resistere Dai 54 sinistra Se è un'altra curva del genere Dobbiamo tagliarla Eh, no, no, no Gravissimo, gravissimo, gravissimo Ragazzi Molto grave Per fare bene 50 Longo 4 destra Ok Faccio veramente fatica A tenere sta macchina Un po' Fatto così Vuol dire che la curva è difficile Ok Stiamo riprendendo Vai Spingi, spingi, spingi Sì Abbiamo perso un po' Ma abbiamo mantenuto il vantaggio Bene così Bene così Non perfetto ovviamente Ma Bene così Abbiamo vinto Per ora No, abbiamo proprio vinto Rally di Corsica 12 punti E ci fanno bene 8 per Dagas 6 per Bacca Contrata per Roller Subarro in presa McRae con Forfocus Tizopo Al mezzo Bici Lancer Sono con Subarro in presa Abbiamo Akita Aikita con Tigliate a 0 punti Sono soli quelli di 6 guadagnano Congregolazioni Vinto il trofeo d'oro Trofeo che non vedremo Oh, campionato punti Come potete vedere Stiamo giocando alla grande Siamo primi Ebbene Per oggi ci fermeremo poi qua Non vi invito a lasciare un like Vediamo Benvenuto a Sve Sentiamo in grande passione Gli anni presenti La gara con fondo Innevato della stagione Innevato La neve scivolosa E le strade ghiacciate Rendono un approccio misurato Alle curve Entusiasmo Ma ti danno la possibilità Di produrti In impressionanti Derrapate di potenza Impressionanti Attenzione ai cumuli Di neve fresca Potrebbero ralentare La tua avanzata Incredibile Dai Non fate passare il rally Per una cosa poco adrenalinica Il rally è adrenalinico È bellissimo il rally Vabbè Io vi saluto E ci vediamo in Svezia Andremo a Mora e Hotting Con una macchina ormai curata Quindi Ciao a tutti E alla prossima Ciao da Jack Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti